Le due vittorie consecutive hanno dato morale alla Futsal San Giovannese che adesso può affrontare la trasferta dal fanalino di coda Elba 97 con maggiore tranquillità. Sconfitti due volte lo scorso anno, gli isolani palizzano diverse difficoltà ma appunto Mr. De Lucia vuole anche evitare il ripetersi di quelle pause mentali avvenute contro Poggi Bonzi sul 5-0. Ecco il punto su spogliatoio e momento da parte di Danny Paolini. Eravamo partiti male però diciamo che queste due vittorie ci ha portato il morale al massimo, non al massimo però quasi, quindi cerchiamo di fare più risultati possibili, utili, soprattutto già da sabato e soprattutto il primo obiettivo è quello di salvarsi poi, vedremo. Sabato scorso avevate chiuso anzitempo, forse vi siete rilassati sul 5-0. Eh sì, a un minuto dalla fine ci siamo rilassati troppo quindi al primo errore, diciamo al piccolo errore abbiamo subito il gol, anzi due, e poi li abbiamo rimessi in gara noi, quindi demerito nostro. E ti aspetti dall'Elba? Dall'Elba una grande nostra partita e soprattutto i tre punti.